La torreggiante Alcina Dimitrescu di Resident Evil Village ha scatenato un vero e proprio polvirone mediatico sin dalla sua prima entrata in scena. Capcom l'ha ideata con l'intenzione di sorprendere i giocatori eppure non si aspettava che la Contessa avrebbe raggiunto una simile popolarità. Tra l'altezza smodata e il suo vestiario ricercato e le fonti di ispirazione a cui deve le sue fattezze, la nobile dell'Europa orientale è effettivamente un antagonista molto originale. I colleghi di IGN America sono volati a Osaka per fare due chiacchiere con Tomonori Takano e Morimasa Sato di Capcom per scoprire il retroscena sulla nascita del villain e del gioco stesso. Forti di queste nuove informazioni non potevamo che tornare a parlare della gigantessa che forse incarna uno dei più grandi pregi della serie, sapersi rinnovare senza tradire le proprie origini. Prima di proseguire come sempre vi invitiamo ad iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di Evriai.it Impossibile parlare della nascita dell'avversaria senza riferirci anche alle ambientazioni che esploreremo in Resident Evil Village. Forse più che in qualsiasi altro capitolo della serie, infatti le differenti aree di gioco sono strettamente connesse alle mostruosità che le popolano, una regola che vale anche per Lady Dimitrescu, ma andiamo con ordine. Il villaggio che ha dato il sottotitolo al gioco è uno dei cuori pussanti dell'esperienza ed è stato ideato ai primordi dello sviluppo di Village. Subito dopo invece è toccato ai personaggi e agli antagonisti principali che i creativi hanno realizzato pensando ai luoghi che avrebbero dominato e al modo in cui avrebbero influenzato l'esperienza ludica. Nell'intervista ai microfoni di IGN stato ha voluto sottolineare i parallelismi con l'iconico Resident Evil 4 che in effetti appaiono piuttosto evidenti. Il villaggio della Spagna rurale e il castello di Salazar, dopo tutto, erano i luoghi chiave dell'avventura e anche i villain, al netto delle evidenti differenze, hanno dei punti in comune con i nuovi. La Dimitrescu è una nemica gigantesca al pari del cattivissimo Mendez, ma è anche la nobile donna proprietaria del castello come Ramona Salazar. Mentre il piccolo ma insidioso pazzoide si faceva accompagnare dai verdugo, la contessa sembra non asseprarsi mai dalle sue adorate figlie, che di fatto sono un po' il suo braccio armato. Dal canto nostro la serie sa guardare al passato quando serve, ma riesce a non riproporlo in una forma sbiadita o poco efficace. Infatti il design e le caratteristiche di Alcina ne fanno un personaggio davvero unico. Gli uomini del villaggio non sono che del bestiame da cui succhiare il sangue e anche quando occupano posti di comando non superano di molto la bassa manovalanza, si pensi a Heisenberg o al Chris Redfield di Village, che per quanto ci riguarda potrebbe anche essere un semplice muta forma. Tutto ciò in piena continuità con Resident Evil 7 contrasta apertamente quanto abbiamo visto nei precedenti capitoli. Excella Joienne e Carla Radames, le antagoniste secondarie di Resident Evil 5 e 6, non erano che pedine nelle mani di Albert Wesker e Simmons, mentre in Village è la Dimitrescu a tirare realmente le fila. In realtà, come gli sviluppatori hanno accennato, parrebbero esserci altri personaggi in grado di spiccare quanto la Contessa e noi non abbiamo potuto fare a meno di pensare alla misteriosa figura di Madre Miranda. Anche in questo caso, l'eminenza grigia in cima al sistema gerarchico del villaggio non è un uomo come nel caso di Saddler, ma una donna che ad oggi resta ancora avvolta nel mistero. Al contrario, adesso conosciamo un po' meglio le figlie di Alcina che oltre a essere molto diverse dalla madre, sia nell'aspetto che in altezza, sembrano possedere delle personalità agli antipodi. Bella, la sorella maggiore, è la più calma e sveglia delle tre, mentre Cassandra è una sadica assettata di sangue. A chiudere il cerchio c'è la folla e Daniela, una giovane delirante che potrebbe farci saltare dalla sedia in più occasioni. Ci auguriamo quindi che le sorelle Alcina siano state caratterizzate adeguatamente. Ma torniamo a quella che sembra essere l'antagonista principale. Come abbiamo già detto, Lady Dimitrescu è nata nelle fasi iniziali del progetto, ma a piccoli passi ed ha una base insospettabile, Mia Winters. Al modello della compagna di Ethan, infatti, sono stati applicati un vestito e un cappello tipici della moda degli anni 60, nella speranza di conferirgli un look da fantasma. Il risultato però si è rivelato essere tutto fuorché spaventoso, ed è solo quando gli artisti hanno cominciato ad aumentarne le dimensioni che il fattore orrorifico è tornato ad alti livelli. Mentre il castello gotico veniva alla luce, gli sviluppatori hanno provato a donarle dei tratti tendenti al mostruoso, ma poi hanno cambiato idea. Pensiamoci un attimo, l'orrore esplicito può far tremare di paura e Nemesis lo dimostra, ma può anche stancare. Gli abomini sempre più disgustosi e imponenti di Resident Evil 4 e Resident Evil 6 hanno perso gradualmente alla capacità di spaventare un terrore che, invece, abbiamo riprovato al cospetto dei membri della famiglia Baker. Insomma, le fattezze umane, eppure così peculiari della Dimitrescu, sono una carta vincente, così come estremamente indovinato, è l'incontro estetico tra il vestiario alla Audrey Hepburn e le caratteristiche fisiche della Hachi Shakushama, la leggendaria donna ad otto piedi rapetrice di bambini. A proposito di dimensioni, i 2,9 metri della Contessa, che per amore di verità includono i suoi enormi tacchi alti, sono sorretti da piedi di ben 44 centimetri, che battono di 4 centimetri quelli di Jason Rodriguez Hernandez. Non a caso, Takano ha ingigantito un vero paio di tacchi alti per approntare quelli della gigantessa. E' così che le 100 streghe nude che abitavano il castello si sono trasformate nella famigliola degli orrori che ormai ben conosciamo, formata da tre streghe vampire e dalla loro madre. Infine, tramite i canali social di casa PlayStation, è stato annunciato un ulteriore showcase dedicato al survival horror, in programma per la prossima settimana. L'appuntamento, nello specifico, prenderà il via alla mezzanotte del fuso orario italiano, nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 aprile. Nell'attesa di scoprire nuovi dettagli su Village vi lasciamo la parola. Fateci sapere, nello spazio dei commenti, quali sono le vostre aspettative sul gioco.